Un calvario, con le tappe scandite sostanzialmente dalla delusione degli ex lavoratori dell'Indotto. L'avvertenza Gela, che oramai non riguarda più solo chi gravita per un motivo o per un altro con le sorti dello stabilimento Eni, ma più in generale con l'intera città, è stata ancora una volta al centro dell'ennesima puntata di Agora, andata in onda ieri sera su Canale 10, con tutte le componenti che interessano questa spinosa vicenda presenti in studio. Chi la vede nerissima, ossia i lavoratori, chi non si arrende e crede che la situazione si possa ancora recuperare, ossia i sindacati, e chi invece pensa che si sia finalmente imboccata la strada giusta per andare a risolvere seriamente qualche criticità, e cioè chi attualmente amministra la città. Tre visioni diverse, ma che a modo loro tentano di ottenere gli stessi risultati. Sul banco degli imputati rimane chi governa il vapore Italia e chi invece quello molto più sgangherato che è il vapore Sicilia. Roma e Palermo, Renzi e Crocetta. Sono loro che hanno creato il problema e sono loro che lo devono risolvere, anche perché è in mano loro il potere di leggiferare, e nel caso specifico, affrontare in maniera decisa e positiva l'avvertenza Gela. Dal Mise di Roma, però, pare che finalmente comincino ad arrivare segnali positivi e di moderato ottimismo. Lo hanno detto tanto il sindaco Domenico Messinese, quanto il suo vice Simone Siciliano, che avendo la delega assessoriale all'industria, sta seguendo passo passo questa spinosa vicenda. Lo ha ribadito, in parte, assegnando però agli attori romani e palermitani le loro gravi responsabilità, anche l'ingegner Fabrizio Lisciandra, consulente della Presidenza della Regione Siciliana, per la stesura del famoso protocollo d'intesa del 6 novembre 2014. Posizione diversa, chiaramente, da parte del sindacato che chiede unità di intenti, almeno a livello territoriale, per un'avvertenza che è ben lontana dall'essere risolta. Tesi avanzata, con forza, dal segretario provinciale della CGL, Ignazio Giudice, presente in studio in rappresentanza anche delle altre sigle sindacali. E poi la posizione del Consiglio Comunale, ben rappresentato in studio da Salvatore Gallo, che ha confermato che sulla vicenda dell'avvertenza Eni non possono esserci più divisioni politiche e beghe di partito. E poi loro, i lavoratori dell'indotto, quelli che purtroppo adesso sono diventati ex lavoratori dell'indotto. In studio, i tre disoccupati gelesi che hanno consegnato mercoledì, nelle mani di Papa Francesco, una toccante lettera per chiedere aiuto anche a lui, alla massima autorità della Chiesa. Perché laddove non hanno finora ricevuto risposte concrete dalla politica, allora ai disperati ex lavoratori gelesi non è rimasto altro che affidarsi alla fede. In una parabola, persino temporale, che sta riportando Gela indietro di secoli, quasi ad una ancestrale visione della vita, che solo nel basso medioevo esisteva ancora. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo domani sera, con la replica integrale che andrà in onda alle ore 21 su Canale 10, oppure attraverso i nostri indirizzi social, il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, con ospiti ed argomenti che come sempre riguardano Gela ed i gelesi.